Abbiamo aperto una polemica politica col Presidente dell'Aggiunta regionale in relazione alla chiusura della metropolitana. Il Presidente ha risposto sorridendo, ho visto le sue immagini e i suoi sorrisini sui giornali di oggi, dicendo che sono polemiche elettoralistiche. No, si tranquillizzi Presidente Caldoro, niente di elettoralistico, è una polemica di merito. E' una polemica contro la regione del nulla, contro la regione che è diventata l'ultima d'Italia per l'uso dei fondi europei e per il reddito pro capite e la prima d'Italia per la disoccupazione. E' una polemica contro chi sta facendo morire il porto di Napoli, che propone grandi progetti che sono grandi palle, contro chi non ha fatto nulla per quattro anni, per l'ambiente. La terra dei fuochi muore, le coballe stanno lì e la regione produce chiacchiere, solo chiacchiere. Ecco, è una polemica contro questo. Ed è una polemica anche contro l'uso clientelare delle risorse della regione Campania. Lei nega, ma sbaglia a negare, perché il fondo che fa capo direttamente alla presidenza della regione era nel 2012 di 2 milioni e 7, sia pure dirottato sulle attività produttive. E le spese per il personale della struttura parallela che lei ha realizzato, moltiplicando burocrazia, tempi morti, ammonta 2012 a 4 milioni e mezzo, buttati al vento. Mi consenta un riferimento colto, caro presidente della giunta regionale della Campania. Come diceva Totò, si faccia un'altra risatina in faccio a questa pipa.